Siete pronti per affrontare l'ondata 10 e successive? Assolutamente! Questa volta la difficoltà sarà estrema, arriveranno più e più mostri, motivo per il quale questa volta possiamo costruire la nostra base e migliorarla in creativa, altrimenti non ve l'avrei mai concesso. Però, visto che la difficoltà è così alta, ci sta, no? Sì, assolutamente! Mi sembra equo, perché pensando a come erano le ultime ondate, direi che ne abbiamo bisogno. Siamo già limite, limite hardcore, secondo me, e quindi stavolta sarà proprio uno dei due che cadrà, da vedere se cadremo entrambi. Ma io ti dico, morirete voi due, pusillanime giù, andiamo! Ma non succederà mai, andiamo, Fede! Fede, abbiamo 10 minuti per preparare la nostra fortezza e ti dico, le invasioni di oggi, secondo me, saranno davvero impensabili. Ah, guarda, io, secondo me, ti dico già che moriremo subito. No, dai, subito no, ti prego, dai. Ma ti ricordi com'è andata l'ultima volta? Eh, lo so, però... Te lo ricordi? Siamo in creative, possiamo fare qualcosa di figo questa volta, Fede. Eh, sì, 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 sì. Quindi, allora, ragioniamo un pochettino. Allora, io ti dico la mia idea. Volevo rendere un attimino più pericoloso questo affossato, quindi pensavo di metterci dei cactus. Ok. Quindi io penso di lavorare a quello e tu un attimino vedi come migliorare la nostra base. Perfetto, mi piace, mi piace, mi piace. A me è venuta già in mente un'altra idea e secondo me non è male. Ti spiego un pochettino quello che ho pensato, Fede. Secondo me questa volta noi non possiamo permetterci di andare in giro come facevamo la volta scorsa. Anche secondo me dobbiamo avere una base, una bella fortezza questa volta. Esatto, dove combattere e dove difenderci. Quindi io pensavo semplicemente di allargare un pochettino lo spazio in cui noi possiamo combattere. Semplicemente rinforzare e rendere più forte questa zona. Perché secondo me è l'unico modo. Se noi andiamo in giro come la scorsa volta, moriamo troppe volte e ci distruggono tutto. Quante ragnatele avete messo? Mi pensate di essere? Io gliel'ho detto di non metterne così tanto. Eh, troppe. Ma guarda, l'ho già combinato. Ma volevi invadermi anche la zona. Non provare a toccare le mie ragnatele, scusami. Ma volevi essere nella mia area, sei. Non sono nella tua area. Poi nel caso ti sto facendo un favore. Usurpatore. Cosa sono queste cose, scusa, eh? Io gli ho detto. Non mettere le ragnatele a rinforzare. Non vengono da vedere. Guarda. No, vabbè. Cosa ha fatto? Ma che schifoso. Guardalo. Tu hai riempito tutto. Però questa qua non ha funzionato. Aspetta, no. Perché non ha funzionato? Lai, io non sono incastrato. Eh. Liberami. Vieni. Eccomi. Meno male. Terna di là, sai. Spider-Man. Terna di là. Guarda, guarda. Che poi dice ragnatele, ragnatele. Guarda lì dentro. Eh, però tu hai invito. Io non ti ho detto che hai fatto troppo difeso. Eh. Ho detto solo che hai messo un botto di ragnatele. Eh sì. Ma un botto. Eh sì. Ed ecco la nostra base pronta. Allora, di sotto abbiamo un fossato con cactus ovunque. Intorno ho messo tantissime ragnatele che sono davvero un sacco. E poi qua abbiamo fatto delle torrette un po' più alte con, vedete, la scala interna e una sorta di barrierina per difenderci per non essere troppo colpiti. Dopodiché qui tutta una sorta di prigione per poter, diciamo, bloccare i mostri per più tempo possibile. E io ti dico, Fer, un'unica preoccupazione. Dimmi. Che, diciamo che forse abbiamo creato una prigione per noi stessi. Eh, che secondo me sarà difficile. È la mia unica preoccupazione. Guarda là io con le ragnatele adesso che lui ha detto che non le voleva. Fer, ma vedi quelle plate. Se tu le tocchi ti sparano cose, ti lanciano cose. È stato un disgraziato. Eh, però no, ha fatto bene, dai. Ha fatto bene. Lo so, lo so. Si è armato bene, ha fatto una bella torre. Ci sta. Penso. Però le ragnatele le ha messe dopo che le ha viste da te. Che tanto si lamentava, però poi l'ha apprezzata. I know, I know, I know. Ok, Fer, siamo pronti tutto e per tutto. È ora di potenziare le nostre armi. Quindi metti la spada in diamante. Ok. Ok, dove la devo mettere? Devi metterla nella crafting table, da quello che so. Ah, ok. Ta, ta, ta. Fer, non me l'hanno spiegato. Ma credo che non lo sappia neanche Lion questa cosa. Perché appunto è della mod. E non so come vanno messe, Fer. Non lo potenzieremo mai la nostra spada. Trovato, Fer. Bastava metterne tre di così. Oh, perfetto. Alla destra e la spada al centro. Faccio, faccio. Infused sword. Ok, adesso invece con l'arco ne dobbiamo mettere cinque. E secondo me saranno. Proviamo a inventare, vai. Sto talmente a caso. Vediamo il primo che lo trova. Vai, Steph. Ok, vai. Una bella sfida. Devi fare un boomerang e tenere l'arco al centro. Ah, è perfetto. Che bravi che abbiamo scoperto tutto. Ok, quindi mi metto spada qui, arco qui, la carne. E Fer, adesso salgo e attivo tutto. Ok, vai. Siamo pronti. Praticamente abbiamo un oggetto da mettere dentro il nostro Nexus. Che fa partire direttamente appunto dall'ondata 10. Dato che la scorsa volta ce l'avevamo fermati così. L'ho messo ad attivare. Chissà cosa ci attenderà, Steph. Fer, come ci posizioniamo? Allora, io sono già sopra una torretta. Non vorrei dire, però. Ho l'arco, un bel po' di frecce. Io non le sprecherei subito. Ok. Io le utilizzerei quando siamo in difficoltà. Quindi proverei. Da subito qui. Io osserverei come si comportano i mostri. Ok. E cercherei... Oh, mamma mia, è iniziata. E cercherei di valutare quello che fanno per decidere cosa fare. Perché, te l'ho detto, ho paura che ci siamo creati una prigione. No, no, Steph, Steph. Dentro la base. Stanno nascendo dentro la base. Scendi giù. Perché? Non lo so. Maledetti. Ok, vai, ripicchio, ripicchio. E non hai ritappato il Nexus, Steph. No, Fere. Aiuto. Allora, aspetta, adesso... No, Steph, stai già facendo un disastro. No, non sto facendo nessun disastro. Ho dei blocchi per tapparlo. Ho dei blocchi per tapparlo. Stai tranquilla. Faccio tappa. Uh, ma sono infuocate le frecce di quest'arco. È bellissimo. Davvero? Sì, sì, sì. Per lo meno quando l'ho lanciata ha preso tutto fuoco. Quindi suppongo che sia colpa della... Ok, perfetto. Allora, ho fatto così... La mia freccia. Ok, no, voglio andare dall'altra parte perché arrivano tutti da qua, vedi? Come facciamo adesso? Andiamo in queste torrette, Steph. Vedo che i cactus comunque funzionano. Ci stanno cadendo e stanno prendendo parecchio danno. Ok, ok. Non è male, non è male. Io vado fuori qua, insomma, e inizio a picchiare quelli che arrivano. Ok, dai. Però sto sperando che non ci distruggano troppo la base. Ecco, 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 lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Cosa è successo? Stanno iniziando qui a sondare, è arrivato un maiale maledetto. Ma dai! Guardate, ha già fatto tutta sta roba? Ma no! Ma non è possibile, stanno già facendo i ponti, Fere. Lion è morto, Fere. Lion è morto? È morto da uno zombie pigman. Ma dai, si è preparato tutta la base con tutte le cose strafighe. E mi muore subito. Io c'ho tutto, c'ho lanciato a fiamme. Ed è già morto. E noi stiamo sopravvivendo, eh. Ma anche facilmente, Fere. Io resisto, sì, sì. Allora, vieni qui. Comunque i cactus sono stati un'ottima idea. Sì, 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 stanno funzionando benissimo. Stanno rallentando dovere un sacco. E wave 10 completa. Ok, quasi completa. Quasi completa. Quindi sta finendo, Steph. Ok, 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 ok. Fere, sto cercando di... Come hai fatto a uscire da lì? Cioè, c'è una strada comoda? Sì. Ho saltato basta. Ok. Mi hanno saltato i ragni. Ragni piccoli, ragni piccoli, ragni piccoli, eccoli, 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 eccoli. Hai capito come esco fuori? Sì. Però devi stare attenta. È una roba delicata. Falla soltanto quando c'è proprio bisogno. Quindi solo per i maiali, Fere. Gli altri... Mi lasci in pace e aspetti che distruggano. Mi hanno dato un'armatura in ferro. Oh, ottimo, ottimo. Bravo, bravo, bravo. Ok, così mi difendo un pochettino. E vieni, ragno, e vieni. Forza, abbi il coraggio di venire. Ma qualcuno è già morto. E che vuoi? Sai, qua ci stiamo bevendo il caffè da quanto è facile. Perché arrivano tutti da noi, allora? Eh, certo, caro mio. Oh, da me sono arrivati una marea, eh. Eh, sì. E da noi muoiono i cactus, però. E quello è il discorso. Vabbè, anche da noi. Non ne arriva uno, praticamente. Cioè, perché sono morto? Sì. Perché ero fuori. Eh, certo, certo. Eh, sì, io lo vado in giro. Va bene, va bene. Sono mica un pusillanime come te che rimane dentro. Vedremo chi resisterà più tempo. Ho andato a 10 superata. Il problema è che hai già riniziato tutto fare. Vedo un maiale che sta cercando di fare una nuova costruzione per arrivare qua. Dove sono io? Ma ci penso io, ci penso io. Ok, a posto. Spero di non cadere. Ho sempre paura in questi momenti. Eh, sì. Codi di sotto, maiale. Codi di sotto. Vai giù. Vai giù, maledetto. Comportatevi bene. Vieni, dai, un altro ittino e ti ammazzo. No, vieni qui. Ok, è caduto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, a posto. L'importante, secondo me, è esporsi soltanto per i maiali. Perché gli altri, comunque, non possono costruire, non possono fare ponti. No, c'è un altro maiale. Vado velocissimo. Perché c'è un problema. Che succede? C'erano quelli ciccioni fuori. Ci sta tirando bombe. Eh, ovviamente, tira bombe. Tu vattene. Dice che la 11 è quasi finita. Però abbiamo il ciccione. Eh, quello te lo devi sorbi... Come facciamo? Non lo so, non lo so. Ci sta bombardando da fuori. Bisogna andare... Bisogna andare da affrontarlo. È come se fosse una catapulta. Vado, Steph. Cosa? Vado. No, no, no. Fede, non andare. Sì, vado. Fede, ti prego, non andare. Aspetta, qualcuno mi sta lanciando ragni in testa. Si può sapere chi è? Si può sapere chi è che mi tira ragni in testa ogni volta che cerco di provare a uscire? Fede, si stanno arrampicando i ragni. Attenta. Ah, no, io vado. No, dai. Uccido questo? No, 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 no. Vado, vado, Steph. Fede, ti prego, se muori mi arrabbio, eh. Eh, ma, cioè, bisogna ucciderlo, Steph. Se muori... E poi è qui, è qui, praticamente incastrato nelle ragnatele. Lo so, lo so, lo so. Ok, l'ho ucciso. Ok, cerca di tornare a casa. Ah, le ragnatele! Perché sono una trappola mortale più per me che per te. Mangio, mangio, mangio. Mangio e scappo. Ti proteggo, Fede. Scappo, 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 scappo. C'è per tornare in base? Sì, sì, sì. Muoviti, 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 muoviti. Ok, io cerco di recuperare anche qualche materiale che era rimasto qua. Ok, adesso io faccio così, 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 così. E qua richiudo pure, guardate. Ok. Allora, hanno fatto diversi buchi, Steph. Fede, 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 Fede. Dimmi. C'è un omino rosso. Come un omino rosso? Guardalo, da questa parte. Dove? Lo vedi? Vicino ai nostri letti. Guardalo. Oddio, il ragno che vola! Ma perché mi volano i ragni in testa oggi? Fede, c'è un omino rosso che ci punta. Eh, l'ho capito, ma mi stanno volando i ragni in testa. Che devo fare? Beh, si è buttato il cactus. Vai via, vai via. Vai via, schifo. Lo vedi che vola? No, Fede, mi ha fatto... Cosa stai dicendo, Steph? Che mi ha fatto cadere in mezzo ai cactus. Non sono io il ragno. Sì, perché tu... Parkour. Ok. Oh, Steph, dai, ti incanti due ore e mezzo per l'omino rosso quando ci sono i ragni che volano. Fede, non ne avevo mai visto uno. Magari era qualcosa di fortissimo. Ma sei dito, guarda. La nostra base sta iniziando a cadere a pezzi, io te lo dico, cioè... Sì, sta iniziando a essere tutto rotto, è difficile qui, eh. Io sono un po' preoccupato. Noi mi riprendo a Parkour. Ok, Anna è morta. Anna è morta. Loro stanno morendo molto più di noi. Bisogna capire però se la base è a rischio o se semplicemente stanno combattendo da fuori. Mi sembra... Queste stanno combattendo da fuori. Che stiano combattendo da fuori, sì. Anche secondo me. Fede, vieni da questa parte, ci sono ragni che saltano addosso. Oh no. Un maiale che cerca di suondare. C'è di tutto, dammi una mano. Dammi una mano. Dove sei? Dentro? Fede c'è spanotto un ciccione e un creeper. Corri verso dietro, corri verso dietro, c'è esplode il creeper. Ok, 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 ok. Ci abbiamo fatto a riuscita. Oh mio Dio, ho due cuori. Oh mio Dio, ho due cuori di vita. Scappa, scappa. Oh no, Steph, sta entrando al mondo. Perché stanno spawnando tutti qui dentro? Stanno entrando, è bucato il muro, non è che stanno spawnando. Porca miseria. Porca miseria, sembra la signora degli anelli. Hanno bucato il muro, sono fatti un ponte. Porca miseria. Un creeper. Ok, ok, ok. Non esplodere, creeper. Ok. Ti prego, non esplodere. No, basta, basta. Steph, moriamo. È esploso. Non ce la faccio. Sto prendendo fuoco. Non farei. Mi ha dato fuoco. Arrivo. Sto morendo. Stai bene. Mangio, mangio, mangio. Chi ha fatto sto buco? Non lo so. Chi ha fatto questo buco? Io mi sto girando e ci sono sempre buchi. Allora, allora, aspetta. Qui dobbiamo distruggergli tutto, eh. Questo passaggio glielo dobbiamo distruggere totalmente. Eh, ce la fai? Ok, prendi il piccone, perché io non ce l'ho il piccone al momento. Ok, sì, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Il problema è che qui hai dei blocchi? Sì, arrivo. Aspetta, no, ne ho uno io. Ok, per fortuna. Arriva, arriva, arriva. Ti serve altro? No, 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 no. Qui hanno bucato il riparo? Oh, mio Dio. Mamma mia. Oh, mio Dio. È quasi finita l'andata 13, a parte il fatto che qua stanno preparando un nuovo assalto. Ok. È tosta, eh. Vado, vado, vado. È sempre più tosta. Maledetti. Maledetti, state calmi. Stanno scavando tutto qui sotto, un disastro. Aiuto. Ragnetti, vi prego. Fate da bravi. Fate da bravi, ragnetti piccoli, non vi sopporto. Sono caduto. No, Stef, no. Sono caduto. Muoio, muoio. Fede, proteggimi. Non lo vogliono. C'hai fatta? Sì, stai fatta. Sei vivo. Sei vivo? Sì, sì. Bisogna distruggere questo percorso? Totalmente, distruggilo. Ce la fai? Ok, se riesci ad aprirmi un passaggio, sì. Eh come? Non ho nulla per aprire passaggi. Proviamo con questo. Fede, ci stanno distruggendo la base. Vai, 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 vai. Ma cosa ci fanno? Eh, lo so, io devo fare il percorso. Fede, siamo morti. Fede, 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 torna in base. Fede, torna in base. Torna in base, muoviti. Torna in qualche modo in base. C'è un tizio di quelli che carica dentro la nostra base che sta spaccando tutto. Madonna, Madonna, aiuto. Come faccio? Come faccio a fare il parkour? Torno veloce. È troppo divertente. Allora, qui ci sono le tue cose. E raga, come sta procedendo? E' malissimo. Malissimo. Davvero? A noi ce n'era uno entrato di nascosto. Anche da noi. In questo momento ce n'era uno di nascosto che ci stava distruggendo. Cioè, ci ha distrutto tutto. Eh. Ma da dove va? Non l'ho capito. Ma sai che mi sa che io ho capito che questi zossi a volte spawnano direttamente? Esatto. Sì, 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 sì. Anni io. Sì, l'ho notato. Ci sono dei malandrini. Non lo dovrebbero fare. Pensa uno di quelli che carica dentro la base. Che io sono entrato, mi ha caricato e mi ha fatto distrutto. Proprio tanto. No, boom. Ragazzi, abbiamo perso. La base si è distrutta completamente. Eh, vabbè, c'eravamo molto vicini anche noi. Vabbè, ma il vostro muraglia di ragnatele ha resistito un sacco. Sì, per fortuna si è resistito. Anche i cactus sono stati davvero molto, molto utili. Però quando entravano in base comunque anche a noi ci hanno fatto parecchio danno. Io sono quasi pieno. Perché praticamente la mia difesa era questa cosa delle pressure plate con le trappi. Allora, il fuoco funzionava. Però questi trapdoor qua, loro praticamente passavano lo stesso. Ah sì? Ma davvero? Sì, erano ignorantissimi. Se ne fregavano. Se ne fregava nulla. No, no, prendevano, eccitavano e passavano oltre. Zombie, zozzoni. Però ti dico la verità. Ti dico la verità. Il vostro design classico di mura, secondo me, è stato vincente. Più che ogni altra difesa. Spero che si riusciti, lasciateci un bel like. E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerarli da distribuervi per non perdervi gli altri fisoni. Ciao e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie per la visione!